Pensavate che mi fossi dimenticato? Io non mi dimentico mai il mio primo Dark Souls, quindi eccoci qui nella serie dimenticata Dark Souls 2 Come vedete non c'è proprio nessuno che ci gioca perché non c'è neanche segni di evocazione ma questo qua succede da moltissimo tempo No, non andrò avanti nella bastiglia perduta ma bensì vorrei fare una stanza più segreta, ossia, ossia Cazzo E come non detto, anzi no un secondo, vabbè Stavo dicendo un posto talmente segreto che non lo conosce nessuno, neppure io Oh, abbiamo premuto questo e ora, ora ci compare un'altra faccia che dovremmo colpire Ah, quella faccia era una porta Campanile della luna Vediamo un po' qua sotto, qua sotto è un semplice punticello Interessante come come, vabbè andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, noi perdiamo tempo Ecco, e qui c'è 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 Unano Chi sei? Diamo un po' come si è vestito Mmm, beh interessante I'm dead, I'm dead Keep ramps up our bell Great bell for king The bell belongs to the princesses' do Stay back we slice, slice you to bits In my chance we shall be made Stay back all your pieces And he's pieces A long, 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 long time ago the princess should make me, yes, just like so To guard this bell for the princesses' honor Stay away, foul undead, or you'll be a goner Stay back, it belongs to the princesses' it do You wish to guard the bell you do For the prince and the princess forever For true Ha ha ha, here for you When you round the bell, you'll be brought near When the bell is in trouble, the ring brings you here Here Slice them to bits, whoever they are, wherever, whoever they are, whoever they are, whoever they fall Slice them to pieces, for the princesses' Buona la troca, vero? Buona la troca Mmm, questo ne devo prendere il numero del suo spacciatore È qualcosa di detale Avete visto come l'ha ridotto La crocola in confronto è acqua fresca Vediamo un po' l'anello Allora Allora, essere teletrasportato Le due campanelle simboleggiano il legame Tra due amanti che non potevano unirsi I custodi della campana sono gli eterni guardiani Poiché tale il loro amore è la loro maledizione Mmm Interessante Vediamocelo subito Oh cavolo Non fammi prendere sti colpi tu piccoletto Oh oh, è aguerrito come piccoletto Egueri Nooo Quanto danno mi fa E c'ha spadalo potenziata eh Non pochino Anche abbastanza E ha più 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 6 Mi c'è che la terra per tutto il gioco Per uno perché Questa build qua mi piace Sì qua non c'è No non c'è niente è sicuro è sicuro Lì c'è Qualcuno che voleva nascondersi Glen Curie senza padrone è un bot dello schifo Che ha mille miliardi di vita però Però effettivamente non serve a nulla Unesimo lanetto È il move set di questa spada però mi fa venire male È un po' Oh Complimenti per la fondo Nope Mi dispiace Mi dispiace Due invece Ah ci è svegliato Un po' la combo Perfetta come combo per fargli fuori Arco del custode della campana Quanto sarebbe Vediamo un po' la lore L'orifichiamoci come sempre Mmm Beh Cambia poco Un po' di digitata Un orarco di legno Utilizzato dal custode della campana Molto leggero richiede pochissima volta Le campane simboleggiano L'amore proibito I custodi della campana Loro fedeli guardiani E sono sempre pronti a dannitare di intrusi La loro voglia è destinata a durare all'interno Poiché tale è il destino di queste marionette Mmm Mmm Dunque Allora Il principe e la principessa Non potevano unirsi per vedere la maledizione Che Come sapete Che cavolo Allora Come sapete i non morti non possono Minchia Ma Prendete la comoda per la estus Mi raccomando No Veramente Quando Oh E' più impegnativo di quanto ricordassi Wow Diceo Allora come potete sapere Allora sapete I non morti non possono Avere Eredi Per via della maledizione Quindi questa è una conseguenza Via uno E ne compare un altro Sono come talpe Uh Scudino piccolino però E' questa No Mossa azzerratissima Mossa azzerratissima Però eh Sono cavoletti Sono cavoletti Non voglio dire altre parole Wow Moneta arrugginita Full vita Beh dai Fortuna che l'ho potenziata Se non l'avessi potenziata Sarebbe stato molto più duro Molto Allora e quindici Dicevo E dall'amore E dalla maledizione Mi sembra Sono nati questi esseri Anzi no La campana Simboleggia l'amore Loro sono nati Per via della maledizione Nessun mimic E di conseguenza Si sono creati questi qua Per proteggere Per proteggere Mmm Non so Mi sembra una cosa Abbastanza insensata Ma conoscendo dark souls Tutto è possibile Scudo del custode Dov'è Scumido che sarà uno scudo da schifo L'ho già perso Da quanto fa schifo Dov'è Scudo 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 Dov'è Eccolo qua Eccolo qua Allora un parma di legno Utilizzato dal custode La campana Molto leggero E richiede pochissima forza Anche questo qui Le campane simboleggiano Allora Si stessa identica roba Incenso dell'oscetti Con nulla di importante Per adesso Ma se vogliamo La lancia del sole Sarà importantissima Eccola qua Tiriamo la leva Aspetta un secondo Ho solo due estus Cavolo Io vado No 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 Io vado al falò qua eh Vado al falò E' suonata la campana Si si ho suonata Suonata E adesso come per magia Quello Non c'erò Non c'erò Prima vado al falò Non è che abbiamo unirato Così tanto Da due Siamo passati a quattro Bleh Non mi sembra tutto sto progresso Vabbè andiamo avanti Nella nebbia Penso che sapete già Chi sono i boss O chi è il boss Eh spoilerato Digià Gargoyle la campana Primo di tutto questo qui Questo sembra il più cattivo Oh oh Mancato Qua sembra tutto gestibile Mi raccomando Vi ricordate Viva le hitbox Mi raccomando Viva Due su un colpo Bello Ora dobbiamo gestirli però E da die Eh Levi Ops Mancato Che peccato Una loro su questi qui Voi siete veramente delle brutte persone Appunto che siete dei gargoyle quindi Non potevo Oh ma mi deve attaccare sempre sempre Mentre sto attaccando io E quindi che succede Quando attacca Mentre attacco Io Quando attacco io Mi fa male Quando mi fa male muoio Eh Tiro porchi Punto Devo far fuori questo qua Puntatevi su uno e E E ti prego Fa qualcosa Grazie Mi sa che dovevo prenderne Dai Via uno Ora ne mancano altri cinquanta Non proprio ma L'ho schivato Ah gli ho preso Ah perché gli ho preso la coda E' fortuna Eh non c'è una loro precisa su questi qui Sono guardiani della campana Appunto Oh oh Devono fare questi i gargoyle no? O almeno questi Mmm Beh un po' Qualcosa da Pensavo facesse tipo un lanciafiamme Perché vedevo che si fermava in volo E quindi Eccolo lì Mai chiamarlo Si parla del lanciafiamme E ne arriva appunto al mente uno In effetti Io l'ho messa nella boss fight Nelle top ten boss fight più difficili di Dark Souls 2 Sì se ti distrai un attimo Possono farti parecchio male Però nel complesso Poi devi farmi secondo attacco tu Sfrutta male le occasioni Gargoyle del cavolo Ecco perché siete dei boss secondari Vergognatevi Oh Non male Ma io ho la visuale anche dietro Uh Non so se andare Potente Complimenti Però Che umiliate L'ho umiliato Non l'ho ucciso L'ho umiliato Però adesso arriva anche il terzo Non mi sembra più debole Eh Però c'è sempre la guardia del co Ah il bodyguard lui Sai che si conoscono allora Lui è Freddy Quello la è È Danny Quello lì è È Franco Quello la che ha ucciso È Gianluigi Quell'altro Quello che ha ucciso per primo Era Gianfrancioschio Hanno tutti Hanno tutti i loro nomi Solo che per Per non metterli tutti Escrivevano Gianfrancioschio Gianluigi Franco Danny Bonni E tutti della campana Allora facevano prima Farci un gioco a parte Oh Mmm Quello la mi sembra Debolino Mi ha fatto un 360 con lanciafiamme Ebbene sì Le pare Secondami un attimo di tempo Grazie Perché già Già se la prende comoda A bersi le Estus Poi datemi anche voi Un po' di riposo Oh e ora se ti sono in due O almeno così spero Sono per Si possono fare i peri a loro? Spero di sì Proviamo Ah Proviamo Si possono Ah Si possono fare Però Però non puoi fargli un critico No Quasi non si può Aha Deboluccio Fortuna che l'ho potenziata la spada Mi ricordo la prima volta che ho fatto il gioco L'ho fatto tutto Senza mai potenziare un'arma Veramente L'ho fatto Perché non capivo ancora cosa voleva dire Cioè la differenza è abissale tra una spada potenziata e una non potenziata Uh Ok cercherò di farlo senza Esus Uno Due E via Ora siamo solo io e te Gian Gianfrancioschio mi sembra Si l'ultimo era Gianfrancioschio Ora me la prendo comoda io Dai voglio finirti bene Però anche te Eh Quanti Fisci Ops No non si può fare il critico che peccato volevo finire l'invallezza Vittoria questo è quello che conta Lui Lui se l'è fatta addosso Anni magari lui se l'ha fatta addosso è scappato anche quello lì Hanno fatto bene Qui Animo di cavaliere valoroso Interessante Non hanno mai messo un oggetto in una boss fight prima d'ora Attenzione che poi può esserci una trappola Trappolina, trappolona C'è nulla Però c'è un, si è Non è un mimic Non è un mimic, non è un mimic Tranquille C'è Anello rituale del sud Pappappappappappappappappappapp importante Allora Uno dei tesori segreti recuperati da Aldia Aumenta il numero di incantesimi da armonizzare Abbastanti interessante Questo anello da aspetto modesto nasconde una magia molto potente Per immaginare le terribili geste compiute per creare un simile oggetto Basta ricordare il crudele destino degli abitanti di Aldia Abitanti di Aldia Ah, sì, 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 sì Vabbè, vi spiegherò tutto a tempo debito Quando arriveremo Lì Fallo acceso, proprio il ritmo di fallo acceso, perfetto No, non è finito quell'episodio Prima una cosa da mostrarvi Relativamente è durato abbastanza pochino l'episodio Qui, vi faccio vedere questa zona qui Non è, sì, non basta Non dico segreta perché Oh, una pentakill È difficile farne una Guarda che erano dei cani Così che zack Una spadata e via Oh, ma non imparate nulla, eh Oh È più di metà È quasi metà vita e te ne è andata via Ricorda, prima legge del PvP Mai fare attacchi Mai fare attacchi con una lancia Quando c'è qualcuno che può fare un pericolo Con uno scudo Quante volte devo dirvelo Quante volte devo dirvelo Mai dare le spalle all'avversario E questo cos'era? Questa l'avevo presa Questa l'avevo presa No, mi metto a piugnucolare come Mr. Red adesso, dai È tutto dove spugna? Vabbè Non sarà rilevante Vabbè, ma l'avevo parata Oh, eh no Stavo perdendo colpi ultimo a me Stavo perdendo colpi alla fine Vabbè Vorgel Il peccatore Il peccatore Perché peccatore? Falcione incantato Non penso che deva darvi una spiegazione Bugiardo Chiave ma arma Bugiardo Dente di drago Oggetto peggioificato Insetto luminoso Dente di drago Vediamo un po' la spiegazione Giù, giù, giù E anche del Come si chiama? Come si chiamava? Ah, dente di drago Giusto Però c'è anche un'altra cosa che devo far vedere Allora, un enorme dente di drago Utilizzato come martello pesante Solido come la roccia Si dice che questo dente Sia stato strappato da un drago Ma non sappiamo se sia vero Beh Guardando i draghi antichi Probabilmente è vero Quello che è certo È che possiedono i poteri mistici Conferendo a chi lo impugna Resistenza alla magia del fuoco Però Però Questo non lo sapevo E c'è anche Ah, falcione Falcione Vabbè, non sarà tutto questo ma Un'ormale spada recurva Al taglio di una spada recurva Causa meno danni rispetto a una spada dritta Ma può sferare una serie di attacchi In rapida successione La lama affilata è efficace Per infiggere sanguinamento Ma si smussa facilmente Attento ad affrontare nemici duri Come la pietra Sì, sì Ho già avuto un'esperienza simile Non è stata una bella esperienza Abbiamo finito l'estus Me ne sono accorto solo ora Anche perché ho un po' Cazzeggiato con l'ultimo Ok Posso finire l'episodio ufficialmente Veramente siamo vestiti davvero bene così Sul serio Devo complimentarmi con me stesso Che ho ideato questa build Anche se è tutto di uno Cavaliere di Hyde Cotta da Cavaliere di Hyde Cavaliere di Hyde A parte questo qui Che l'ho trovato in quella zona Però ci sta perfettamente Questi qua Ma Sto fantasticando Allora Il prossimo episodio Se ne mai uscirà un altro episodio Perché stasera è dimenticata Non so neanche Se vi ricordate di guardarlo Ma La zona del campanile è finita Quindi la prossima Andiamo un po' più veloce Così fa epico Porca teoria fa epico Veramente Allora Il prossimo episodio riprenderà Dal falo di prima Cioè quello da dove ho cominciato l'episodio Che dobbiamo andare avanti Con la bastiglia perduta La spada è abbastanza usurata Comunque spero che il video vi sia piaciuto E spero che continuerete a seguire questa serie E tutte le altre Ciao a tutti Ciao a tutti